L'oltrepo è di scena a Besozzo per provare ad approfittare dello scontro diretto nelle prime posizioni tra Calverate e Casteggio, ma il Verbano è avversario assolutamente da rispettare. La squadra di Maestro Leonardo approccia al meglio la partita e nei primi minuti crea tante azioni da gol. Vaglio è ispirato, Ferraro lavora il pallone, la conclusione dalla sinistra fa la classica barba al palo. Ancora oltrepo, bello scambio nello stretto e tiro di Ferraro, para però il portiere del Verbano in uscita dal corner seguente. Colpo di testa a Dilo Russo non preciso, il difensore si rifarà mentre l'oltrepo chiede in vano un tocco con il braccio. Si gioca una porta sola, Vaglio mette in mezzo una quantità industriale di palloni, ma la difesa del Verbano si salva sempre qui sul tiro di Speroni. Vaglio prova a mettersi allora in proprio, attento Gargarella sul suo palo. Il Verbano fatica a farsi vedere in attacco, questa di fatto l'unica sortita offensiva di Di Bartolo, innocua. Al quarto d'ora allora passa l'oltrepo, punizione di Modotti, colpo di testa a Dilo Russo da appena dentro l'area di rigore. Pallone che però sorprende il portiere e finisce la sua corsa in fondo alla rete. 0-1 dopo 15 minuti e oltrepoche con merito sblocca la partita. Esulta il centrale, già protagonista sui calci da fermo, in maglia. Vogherese prova subito a reagire il Verbano, destro al volo di Lanza, para, Guerci, distinto. Attento il portiere dell'oltrepo, poi ancora la formazione ospite, Vaglio cerca Ferraro, tiro debole e centrale. Successivamente bella conclusione al volo dello stesso Vaglio, applausi per il numero 7 ma l'esterno non trova lo specchio. La squadra di Mastro-Lonardo vorrebbe trovare il raddoppio e chiudere la partita ma Ferraro di testa non è incisivo e anche su punizione l'oltrepo manda lato. Nelle fila del Verbano è sempre Lanza il più attento e più pericoloso, qui il numero 8 calcia sul primo palo chiudendo però troppo l'angolo. Ma è un segnale di quel che sarà, anche se nella finale di frazione ancora l'oltrepo ad avere la palla del 2-0, Franchini però calcia sul portiere. Con le immagini nella ripresa è subito Verbano più pimpante, scambio da un corner battuto velocemente, tiro che sorprende Guerci ma tutto era già fermo per una posizione di offside segnalata dall'assistente. È il segnale però che l'inerzia è cambiata, palla sul secondo palo, sponda per Petrazzini che però si fa murare la conclusione da un avversario ma il pari è maturo e arriva al minuto 18 del secondo tempo. Palla dentro per il taglio di Lanza che controlla e scarica il sinistro vincente che vale il pareggio. 1-1 premiato il centrocampista autore di un ottimo primo tempo e capaci di trovare il gol nella ripresa. La rete segnata galvanizza ulteriormente il Verbano di Celestini che resta in area di rigore avversaria creando scombigli. L'oltrepo è un po' in affanno ma vuole vincere, Florenzianes prova il destro al volo, palla ampiamente a lato. Nel finale ancora oltrepo pericoloso su palla inattiva ma Lorusso e Gabrielli non riescono a trovare il gol. Sul controcross esce sicuro Gargarella che fa suo il pallone, di fatto le emozioni finiscono lì. Il Verbano prova ad emulare l'oltrepo sui calci da fermo, poi Ferrari viene fermato in offside tra le proteste del pubblico di casa. Finisce 1-1, un punto che sicuramente accontenta di più il Verbano rispetto all'oltrepo.